difendi i colori della Brixie anche lei fata della nazionale ieri gli brillavano gli occhi quando ci raccontava che oggi ci avrebbe mostrato il suo esercizio a parallele eccola Stalder Kaciov collegato a un bellissimo pack stagio basso giro di pianta Shapochnikova Stalder con mezzo giro alla Cubitale bellissimo ancora questo collegamento dalla Cubitale per un passaggio allo stagio basso Stalder Shapochnikova con mezzo giro è di nuovo lo stagio alto e di nuovo in verticale pronta per una gran volta di petto con mezzo giro, gran volta Cubitale ancora in Cubitale con un giro e dalla Cubitale doppio raccolto d'uscita, attenzione ferma lì con i passi ha addirittura superato lo stagio basso ma è sembrato quasi un passaggio coreografico per salutare al meglio la giuridica